Salve, siete sul canale Pratiche Sartoreale alla Moda. Vi ricordiamo che i nostri video escono tre volte a settimana. Oggi iniziamo la serie dedicata a questo abito. Il primo video è dedicato alla modelistica. Questo è uno dei vestiti che ho comprato nel 2020. Il primo era un abito di lino e questo è il secondo. Perché l'ho comprato? Perché mi è piaciuto il modello e in particolare come sono fatte le maniche. Come sapete io ho un rapporto particolare con le maniche. Ad esempio d'inverno quando indosso un vestito più pesante come maniche lunghe a volte ho troppo caldo e poi per me maniche lunghe significa maniche tirate in su come sono le mie adesso. Non sopporto le maniche lunghe e soprattutto quando sono al lavoro le maniche lunghe mi danno fastidio. Detto questo vedete come sono le maniche di questo vestito. Oltre il tessuto leggero hanno l'elastico e posso tirarle su quando e come voglio. Ma vediamo come è fatto il vestito. Non è fatto solo di maniche. Un po' sopra la vita inizia questo cannoncino. Ho già fatto il disegno. Lo guardiamo dopo. Vedete il cannoncino? La cucitura è all'interno. Poi vi dirò quanto il centimetro è largo ma non è troppo svasato. E poi arriva sopra la linea della vita. Ci sono delle cuciture. Il cannoncino è attaccato proprio con queste cuciture alla parte interna. Sulla parte esterna, quella visibile, non si vedono le cuciture. È piegato e stirato. Tutto è nascosto e cucito alla parte inferiore. E poi arriva sopra la linea della vita. Ci sono delle cuciture. Il cannoncino è attaccato proprio con queste cuciture alla parte interna. Sulla parte esterna, quella visibile, non si vedono le cuciture. È piegato e stirato. Tutto è nascosto e cucito dalla parte inferiore. Vedete come è fatto l'angolo? Vedete? Qui è semplicemente girata e tutte le cuciture sono chiuse al rovescio. Vedete arriva questo angolino e tutti ci hanno chiesto come si fa. Dopo vi faremo vedere questa tecnica. Vi faremo vedere proprio come fare tutta questa parte. Dopo averte la lezione. Vedete sembra un finto secondo vestito indossata sopra il chiffon. Ma in realtà è un vestito fatto di due tessuti. Uno coprente e uno trasparente. Vedete i fianchi? Il tessuto coprente cade sopra e sembra un secondo strato. In basso lo chiffon non è attaccato dove finisce il tessuto, ma è nascosto sotto una leggera arricciatura. Vedete? È un dettaglio separato cucito alla parte interna. Vedete? è un dettaglio separato. Altre cose particolari non ci sono. Il cannoncino è trasparente e se anche voi sceglierete un tessuto trasparente per questo dettaglio dovete avere una sottoveste adatta. Come ho già detto anche la manica è trasparente. Ha l'elastico al polso che forma una balza. Nel mio caso comunque la manica non sarà lunga, ma sarà più o meno all'altezza del gomito. Il girocollo è rifinito con elastico bicolore, nero e bianco e sotto si vede una balza del tessuto trasparente. Noi non abbiamo un elastico come questo. Nel nostro caso faremo una semplice rifinitura con sbiego. Vedete? Noi qui useremo semplicemente lo sbiego, non faremo questa cosa qui, perché non abbiamo questo tipo di elastico. Certo, non è obbligatore fare esattamente in questo modo. Ognuno decide e fa quello che gli piace. Non c'è una cerniera dietro perché il tessuto è elasticizzato. Ecco, questo è il nostro vestito. Ecco di nuovo le parti laterali sui fianchi. Penso che abbiamo capito bene com'è fatto. È un modello interessante. Insieme alla sottoveste che in realtà è un vestito separato era scontato e costava circa 65 euro. Questo era il vero motivo per quale l'ho comprato. Adesso ci spostiamo sul nostro tavolo di lavoro e vi farò vedere il disegno tecnico e inizieremo con la modellistica. Ecco il disegno. Ho segnato due lunghezze dall'inizio della spala fino al bordo del capo, 107 centimetri, e dall'inizio della spala fino a dove finisce la parte superiore del vestito. Mi rimane di misurare quanti centimetri sono dal giro manica bassa fino all'inizio del cannoncino. La distanza è di 12 centimetri. Devo capire questa distanza qui, vedete? Se io la misuro ho 12 centimetri. Scrivo qui 12 centimetri. La larghezza del bordo invece è di 3 centimetri. Si intende la parte del tessuto superiore che copre il chiffon. E siamo pronte ad iniziare il nostro lavoro. Davanti a me abbiamo la base già preparata. Come ho fatto? Seguite bene i passi. Alla linea del fianco dietro ho aggiunto due centimetri. Ho fatto una linea parallela a quella iniziale. Vedete? Qui ho cancellato quella iniziale. Mentre sul davanti ho tolto due dalla linea del fianco. Ecco. Vedete? Questa è la nuova linea. Perché ho fatto questo? Per avere la linea del fianco esattamente al centro dei lati. Se l'avesse lasciato come era la base andrebbe leggermente spostata verso il dietro. Io invece vorrei che sia esattamente al centro dei fianchi. Per questo motivo ho dovuto fare in modo che il davanti e il dietro siano uguali in larghezza. Cosa facciamo adesso? Abbassiamo il giro manica di un centimetro. Subito approfondisco di un centimetro. E siccome che vorrei che il vestito seguisse bene la figura, disegno una bella linea della linea vita fino al giro manica. Sia sul davanti che sul dietro. Diamo un po' di silhouette. Mi meravigliano molto i modellisti che fanno tutto dritto con un righello e poi tolgono un po' qua, un po' ancora là e così via. Si deve solo memorizzare la forma con l'occhio. Io conosco la forma della mia figura e so che la linea devo fare ma non mi serve il reghielo assolutamente. Anzi, io non li uso proprio. Adesso dal punto vasto del giro manica misuriamo i 12 centimetri e segno una linea orizzontale in questo modo sia sul davanti che sul dietro. E adesso da questa linea verso l'orlo posiziono il reghielo inclinato leggermente verso il centro. Cioè di un paio di centimetri non di più. In questo modo qua. Se la distanza dal centro fino a sotto il braccio è 28 cm, in fondo prendo 26,5 cm. Vedete da qui a qui io ho 28 cm, in fondo prendo 26,5 cm, cioè meno 1,5 cm. Vedete la linea del fianco? Dobbiamo rientrare a 1,5 cm. Ecco la nuova linea. Cioè da questa linea qui, vedete, dovete rientrare di 1,5 cm. Ripeto la stessa cosa poi anche sul dietro. parto dal punto sotto il braccio e disegno una linea che rientra all'orlo di 1,5 cm. Vedete? Adesso misuriamo i 13 cm dal bordo. Sono i 13 cm della balza in fondo al vestito. E segno la linea è di 13 cm, sia sul davanti che sul dietro. 13, 13. Mi traccio la linea della balza. E stessa cosa faccio anche sull'altro lato. 12, 13, 13. Controllate tutto due volte, mi raccomando. E adesso posso prendere un penarello di colore diverso e segnare questa linea. Sarebbe la linea del finto vestito superiore. Questa qui, vedete? Prendo un penarello rosso così sarà bello visibile. E adesso capirete meglio cosa intendevo una volta ripassato. L'importante è non sbagliare. Ma la cosa più importante è che questo lavoro è molto piacevole. la linea orizzontale dell'attaccatura con il tessuto trasparente è larga 3 cm. Ed è leggermente inclinata. Ecco così. Misuro 3 cm in larghezza e 1 cm per fare una linea in diagonale. più o meno 1 cm insomma. 3, 1. Stessa cosa sul dietro. 3 e 1. E adesso passo con il penarello rosso. La linea rossa che ho disegnato prima è il bordo esterno. Adesso faccio la linea interna alla quale in realtà è cucito tutto il cannoncino. Vedete? Penso che grazie a questo vestito avremo un bel po' di lavoro da fare perché oltre la modellistica ci sarebbe da fare un masterclass dedicato alla realizzazione dell'angolo e della parte laterale. Scrivetevi come vi sembra se vi piace questo modello. Sinceramente a me sembra interessante. ecco questa è la parte che va sopra il cannoncino. ripeto la stessa cosa anche sul dietro. La distanza tra le linee è di 3 cm. ecco questo modello. Perfetto. A questa parte sarà cucito il cannoncino lungo la linea interna e i tre centimetri saranno sopra per dare l'impressione di un vestito sopra l'altro. E all'interno della parte superiore ci sarà da fare questo angolino, cioè io faccio un'altra linea tratteggiata perché sarà all'interno. Più in ora sono molto soddisfatta. Adesso il nostro compito è fare il dettaglio della balza e il cannoncino. Adesso il nostro compito è capire, prendo un penarello di colore diverso, verde, e andiamo a disegnare questi dettagli. In verde è il dettaglio per la balza. Il centro davanti e dietro va sulla piega del tessuto. Scrivo piega. E un rettangolo con il lato lungo. In teoria sono 24 centimetri. Adesso dobbiamo decidere quanto ci serve per l'arricciatura. Se prendiamo doppio 48, secondo me sarà un po' troppo. Direi di prendere 1,7. Quindi moltiplico 24 per 1,7 e il risultato è 41. Secondo me sarà un po' troppo. Cioè sarà l'arrotondo a 45, insomma. Questi 45 centimetri sono per la metà del davanti, quindi mi servono 90 in totale. Scrivo su tutto il mio dettaglio verde, larghezza 90 e lunghezza 13 più 3 uguale 16. Ricordate i 3 centimetri che saranno nascosti. Questi 90 centimetri saranno arricciati e saranno cuciti lungo il bordo inferiore del vestito. Quindi per il davanti ci serve un dettaglio largo 90 e lungo 16 centimetri. Sono 16 in lunghezza perché sono 13 finiti più 3 l'orlo. Largo 90 e lungo 16 sarà arricciato e attaccato al vestito superiore lungo la linea rossa che qui vedete sovrapposta a questa verde. Seguiamo la stessa logica anche per il dietro. Stessa identica cosa va fatto anche sul dietro. Tutto questo è senza margine cucitura, eh? Stessa cosa ora faremo sul dietro. Tutti ricordiamo dove abbiamo fatto la linea del fianco. Sul davanti e sul dietro. Adesso, dai punti in fondo ai fianchi vorrei aprire i 4 centimetri. Misuro 15 centimetri. Ma prima passo col verde il dettaglio per la balza. Così non ci confondiamo. Quindi dall'inizio della balza misuro 15 centimetri sia sul davanti che sul dietro. È la metà del mio cannoncino. Se adesso non capite, non vi preoccupate. Seguite e vedrete che diventerà sempre più chiaro. Adesso unisco il punto 15 al punto che si trova un po' sopra la linea della vita. Io cerco di spiegarvi nel miglior modo possibile, però alla fine capirete bene. Io adesso unisco il punto 15 al punto che si trova un po' sopra la linea della vita, dal quale inizia il mio cannoncino. Qui arrotondo leggermente, ma sistemiamo dopo. Noi qui andremo a correggere, ma vedrete dopo in seguito. Qui va arrotondato un po' l'angolo. Smussate sempre questi angoli. Prendo in mano il mio pennarello nero e disegno il mio dettaglio sui fianchi. Noi qui andremo a fare un po' sopra la linea della vita. Ripasso apposta con diversi colori e cerco di fare in modo che sono visibili. Non li sovrappongo, le linee, in modo che riusciate a capire meglio quale colore e a quale parte riferito. Così si vedono meglio i singoli dettagli. Ad esempio il verde mostra dove sarà la balza, ma noi sappiamo che il dettaglio sarà arricciato. Il nero invece è il dettaglio sui fianchi, che noi andremo a ricalcare e unire con lo scotch. Adesso questi due qua vanno ricalcati e uniti insieme. Questa è un dettaglio unico in realtà che noi dovremmo unire adesso. Siccome mi fanno segno che dobbiamo concludere il video, io però non vedo l'ora di farvi capire. Quindi facciamo così, piego la carta così e vi farete un'idea. Poi ci vedremo nella seconda parte del video. Vedete, nel prossimo video ricalco queste parti e le unisco con lo scotch. Non potrò ritagliare perché perderò la parte del vestito e quindi devo ricalcare, ma vedrete tutto. Come prima cosa facciamo l'inserto trasparente sui fianchi. In realtà i due triangoli che abbiamo disegnato l'altra volta sono identici. Quindi potete piegare la carta in due, appoggiare la piega sulla linea centrale, ricalcare la metà e poi aprire. Oppure potete ricalcare prima l'uno e poi l'altro. lo possiamo fare insieme. Guardate. Questa parte e questa parte sono identiche. Volendo si può copiare una, aprire e farla intero. Oppure ricalcare tutte e due come farò io adesso. Prima facciamo la parte davanti e dietro e poi li uniamo insieme. Imparate a lavorare con pennelli di colori diversi. Sarà più facile capire i dettagli dopo. Ricordo che questi qua sono tutti i dettagli senza margini di cucitura. sovrappongo la linea centrale e ricalco anche il secondo triangolo. Ho fatto un piccolo errore nella lunghezza di un lato di qualche millimetro ma non è fatale. poi ritagliamo i due triangoli con margini di cucitura di un centimetro lungo tutta la circonferenza. Scrivo due dettagli, uno per lato sinistro e uno per il lato destro. e ritaglio direttamente con un centimetro di margine cucitura. Vedete come faccio il ritaglio direttamente lasciando un centimetro di margine. Il tessuto per l'inserto sarà un chiffon sintetico quindi si potrebbe rifinire con l'orlo arrotolato come facciamo noi oppure con quello a tagliacucci. Insomma vedete voi. Quindi margine di cucitura 0,5 0,5 piegato quindi fa un centimetro in totale. Ecco le due parti che hanno formato il nostro inserto, uno dal davanti e uno dal dietro. E con questo dettaglio abbiamo finito. Adesso ci concentriamo sul cartamodello sul tavolo. Vi ricordate che nella prima parte ho disegnato la linea 3 centimetri dal bordo, poi ho misurato altri 3 centimetri ma questa volta verso l'esterno e sono arrivata a questo risultato per il davanti. Ecco vedete il dietro come l'abbiamo lasciato l'altra volta. Adesso andiamo ad aggiungere 3 centimetri verso il dietro. Stessa identica cosa si fa sul dietro. Questo non è un dettaglio separato, attenzione. Adesso vi farò vedere e capirete tutto. Il nostro davanti e il nostro dietro praticamente aumenta di 3 centimetri nelle parti che vedete in rosso. Ma adesso vi spiego tutto. La prima linea. Cioè praticamente dalla prima linea sia il davanti che il dietro si ingrandiscono di 3 centimetri. Sia sull'orlo che dai lati. La prima linea quella interna è la linea alla quale si attacca il shifon all'interno. Ecco qua sull'abito. Questa qui. Poi la seconda faremo un'imbastitura per segnarla. E quella sarà il tessuto piegato verso l'interno e stirato. Su questa linea faremo un'imbastitura per segnarla e poi piegheremo verso l'interno. E poi c'è la terza linea quella esterna che abbiamo appena disegnato. Su questa linea sarà ritagliato il tessuto. L'angolo che si forma poi sarà rifinito e vi faremo come fare. Poi quello che dobbiamo fare è ritagliare questo. Ma prima scrivo tutto sul foglio del disegno. Arriciatura in fondo. Due detalli di 90 cm x 16 cm. Cioè larghezza 90 cm x 16 cm. Senza i margini di cucitura. Ve lo scrivete proprio sullo schizzo. C'è due detalli. Larghezza 90 cm x 16 cm. Ho scritto tutto. Ora metto insieme al nostro inserto già pronto. E iniziamo a ritagliare. State molto attenti per favore a quello che faccio io. State attenti. Non ho ancora fatto nulla per la scolatura e il girocolo. Né con la pen seno. Intanto ritaglio il cartamodello. Sì. 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 Quindi non devo dimenticare che ho già abbassato il giro manica. Abbiamo già abbassato. Quindi taglio quello. Come ho fatto con l'inserto, aggiungo subito un centimetro di margine ai lati e anche sull'abito davanti. Così quando appoggio poi sulla stoffa sarà facile vedere dove sono i margini che ho lasciato. Così non abbiamo più il pensiero dove raggiungere, fare e così via. Perchè aggiungo un centimetro, dopo capirete meglio. Ritaglio anche il dietro e ci vedremo fa un po'. Prima di iniziare a lavorare con la pen seno e il girocolo, vorrei che ci fermiamo a vedere cosa abbiamo fatto. Proviamo ad immaginare. Il tessuto sarà piegato verso l'interno e stirato lungo la seconda linea. Questa qui, vi faccio vedere. L'inserto in chiffon sarà unito a tre centimetri verso l'interno. Per fare ciò abbiamo lasciato i margini di cucitura di un centimetro, sia sulla parte dell'inserto che sulla parte del cartamodello principale. Cioè prendiamo l'inserto, posizioniamolo in questa maniera, giriamo verso il rovescio ed ecco i nostri margini. Su questa linea l'inserto sarà unito al vestito. Vedete? Qui sarà unito e rimarrà tutto pulito dal dritto. La cucitura sarà fatta lungo la linea interna, la linea rossa numero uno. Vedete? Così dal dritto. Certo, l'inserto va spostato, rimane più lungo in fondo perché al vestito dobbiamo attaccare anche alla balza. Ok? Ecco, qui sarà cucito il dettaglio di 90 centimetri arricciato. Chi di voi vorrà fare questo vestito avrà la possibilità di farlo assolutamente gratuito partendo dalla base di 10 misure. Dovete solo guardare i prossimi video. Ecco anche il bordo sarà piegato a 3 centimetri e l'angolo sarà lavorato in un modo che vi faremo vedere. A parte in un tutorial. Solo quando questo angolino sarà rifinito, solo allora potremo unire l'inserto. Bene, adesso che abbiamo idee chiare su questa parte andiamo avanti con quello del resto che ci aspetta. Adesso dobbiamo spostare la penseno. Sapete tutti ormai come si fa? Seguitemi. Abbiamo già approfondito il giro manica, spostiamo solo la pens e facciamo il giro collo. Gullah vive da dovevi andare a fare l'obaticcio,ifepi, fegati le minute. Allora, guarda un uomo che? Grazie, buvattano? Guarda un uomo che? Quegi che può romaare la provata. I amo. E delle devono die andone, a provincia, scuss Tolgo questo pezzetto che sporce dalla linea spalla e siamo pronti. Guardate che bellezza. Vorrei attirare la vostra attenzione sulla manica. Come vedete sul modello abbiamo la cuffia alzata. Ma nel mio caso ho deciso di fare la manica tradizionale. Ognuno decide per sé. Se volete potete fare anche mezzo reglan. Sul canale avete tutto il materiale necessario gratuito per fare la manica che più vi piace. Vi ricordate come si fa? Se ritagliano le parti del davanti e del dietro si aggiungono alla manica. Quindi adesso torniamo a noi. Prima sposto la pence spalla nel giro collo. E adesso dall'inizio della spalla tolgo 4 cm. Sposto la pence nel giro collo. Ora dall'inizio scolo tolgo 4 cm. 3 cm. Anzi no, meglio 3. Ricordiamo che avremo la balza. Misuro 3 cm dall'inizio spalla sia sul dietro che sul davanti. E visto che abbiamo trasformato la pence possiamo controllare le spalle. Prima togliamo 3 cm. Poi controlliamo le spalle. Perfetto, corrisponde tutto. E adesso se ne 3 cm dal centro davanti arrivo a 2,5 cm al centro dietro. Certo, anche in questo caso dipende dalle preferenze. Uno non sopporta quando il collo lo stringe troppo. Altro non sopporta avere il collo troppo aperto. Ognuno sceglie per se stesso a seconda di come si sente più comodo. Nessuna Irina Michalovna non può dire qual è la variante migliore. Io scelgo per me stessa e a me piace leggermente aperto. Voi decidete in base a quello che più vi piace. Mi raccomando qui siete liberi di scegliere quanto aprire o lasciare chiuso il giro collo. Come ho detto farò la manica classica ma penso comunque di togliere un centimetro perché il tessuto è jersey e in questo caso per i miei capi devo sempre togliere un centimetro. Dal giro manica parlo. Ma questo è perché io conosco bene me stessa il cartamodello quindi per questo lo tolgo. Voi prima provate e vedete se serve o no. rimane da fare il posizionamento sul tessuto, il taglio, l'imbastitura e la prova. Inoltre per come è fatto questo vestito ci saranno anche video dedicati ad alcuni momenti della tecnologia e del lavoro. Mi raccomando sono video importanti anche quelli dedicati alla tecnologia. Non siate pigri, guardate, informatevi e fate le cose fatte bene. Ed eccoci qua. Abbiamo finito la modellistica del davanti, del dietro e abbiamo anche il nostro inserto e la balza. E abbiamo dedicato due video finora. Ecco qui le dimensioni della nostra balza. Quando iniziamo ad unire tutto sarà molto più chiaro. Guardiamo di nuovo il nostro modello. È un modello interessante e non difficile da realizzare. Mi piace molto questo momento bianco, così posso mettere le scarpe bianche, ma in realtà le scarpe bianche le avrei messe comunque, non mi faccio troppe storie. Quindi, sono a posto. Bene, davanti a noi vediamo il nostro disegno. Il mio tessuto principale è un gerso di un colore naturale, rosa cipria. E poi abbiamo questo chiffon sintetico in fantasia. Il chiffon mi serve per gli inserti, per l'arricciatura del bordo e per le maniche. È probabilmente un dettaglio arricciato per il girocolo, ma non ho ancora deciso. Potrebbe anche essere che non lo faccio. Vediamo quando arriva il momento, per il momento non lo so. Deciderò dopo, perché il girocolo non ho ancora deciso se voglio aggiungere qualcosa o meno. Per il momento metto da parte il chiffon e mi concentro sul jersey. Iniziamo a tagliare la parte principale del vestito. Vi ricordo ancora una volta le linee. Una volta taglio il jersey, andremo avanti tagliando i dettagli anche del chiffon. Cioè, io adesso taglio tutti i dettagli in jersey, dopodiché inizieremo a tagliare quelli in chiffon. Adesso portiamo tutta la nostra attenzione sul tavolo del lavoro. Ricordate che sul centro dietro non c'è cucitura. Quindi posiamo il cartamodello sulla ripiegatura della stoffa. Cioè, se voi avrete cucitura, dovete fare con margine cucitura. Noi qui non ne abbiamo. Quindi metto il cartamodello sulla ripiegatura della stoffa. Ecco, vedete come deve essere pregato il tessuto in modo che sia il centro davanti che il centro dietro sia sul ripiego del tessuto. Nel mio caso l'altezza del tessuto mi permette di farlo. Voi fate la stessa cosa e vedete se sarà possibile. Al limite, se il tessuto lo permette, potete anche girare il cartamodello. Per chi ha una taglia più grande, è meglio prendere due lunghezze. Come abbiamo detto, sul centro dietro non c'è cucitura, quindi dovrei fare solo le due pence. Se qualcuno lo ritiene necessario, può fare due pence vita anche sul davanti e non c'è nessun problema. Chi invece vuole un vestito più largo può eliminare completamente le pence. Sono permesse tutte le varianti, con pence sul dietro, con pence sia sul davanti e sul dietro oppure senza. In ogni caso, la decisione finale dipende dalla prova. Io potrei anche imbastire subito le pence dietro. Quindi, adesso vediamo le linee laterali. Come abbiamo detto, abbiamo la prima linea che chiamiamo la linea della cucitura e l'inserto del chiffon. Poi abbiamo la linea della piega verso l'interno e la terza la linea che combaccia con la prima linea, dopo che abbiamo piegato. Sul dietro la storia si ripete. La prima e la terza linea combaciano. Sulla seconda pieghiamo e proprio sulla seconda linea andiamo a fare un'imbastitura. Per segnare devo andare a piegare e stirare. E in questo modo avremo ottenuto l'illusione di un abito sopra l'altro. In realtà sarà solo un dettaglio del vestito, fatto del tessuto principale e poggiato sull'inserto in chiffon e sulla ricciatura. Penso che abbiamo pensato tutto e abbiamo fatto tutto bene, quindi possiamo iniziare a tagliare. Ho lasciato i margini di cucitura e lati e in fondo. Non ho invece i margini sulla parte superiore. Vi chiedo di scrivere tutto sul cartamodello, poi come vi ho già anticipato ci sarà un video dedicato all'inserto in alcuni momenti delicati. Quindi mi raccomando guardate tutto perché ci siamo proposti di darvi tante nozioni attraverso questo modello. Tante nozioni che poi potete usare anche per altri modelli che create voi. Tagliamo seguendo il cartamodello. Adesso mi viene molto comodo avere i margini così non devo pensare a nulla. Sul giro manica in fondità non lascio margine, lascio solo in larghezza un centimetro. Faccio la stessa cosa sul giro collo e la linea della spalla. Lascio un centimetro per margine cucitura. Ecco fatto, abbiamo già il nostro primo dettaglio tagliato. Adesso taglio anche il secondo e vi farò vedere come fare le linee laterali. Tagliamo il davanti nello stesso identico modo come ho fatto con il dietro. Nel giro in profondità non lascio margine. Vedete? Ho ritagliato entrambi e adesso segno la pence dietro. Quanto è bello lavorare con il cartamodello giacola ho dato. Lavori e ti concentri sulle linee e sui dettagli. Non devi pensare alla piombo oppure se ti starà bene. Invece nel maggior parte dei casi uno mentre lavora sul modello si preoccupa se il capo gli starà bene. Perché se alla fine non sta bene tutto il tuo lavoro sul modello non ha alcun senso. Per questo dobbiamo avere la base già approvata. Bene, detto questo, ecco vedete il dietro del vestito. Ho segnato le pence e ho messo i spili lungo la seconda linea. Adesso vado a segnare con il gesso. Dopodiché riporto queste linee anche dall'altra parte. E poi dopo aver riportato tutte le linee vado ad imbastire col filo bianco lungo queste linee. non dimentichiamo di segnare anche la pence palla che abbiamo spostato nel girocolo. È piccola ma c'è ed è importante non dimenticarla. Tolgo i spili dalla parte alta e vi faccio vedere come riportare le linee. Tulliamo tutti i spili. Metto i spili sulle punte delle pence in questo modo e segno anche la larghezza delle pence. Adesso vi faccio vedere. Tolgo prima il cartamodello. Qui segniamo inizio e fine. Metto i spilli in questo modo segnando sia la punta che la parte centrale. giriamo attentamente. dove abbiamo le linee. Metto con i spilli. Prima segno le linee e poi le pence. Mi raccomando fate le linee con precisione. Usate gesso oppure matita cancellabile ma fate le linee belle dritte. osservate bene e poi replicate. guardate 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 Cioè, voi guardate come faccio io. Basta che ripetete le stesse mosse e siete apposte. Mi assicuro di avere tutte le linee riportate sia sulla parte destra che sulla parte sinistra. Io vi faccio vedere in dettaglio come lavorare con le linee e vi faccio anche vedere come riportare su entrambi i lati. Il lavoro sul dietro e il davanti si fanno lo stesso modo. Dopo ci sarà il masterclass e solo dopo l'imbastitura del capo è la prima prova. Direi che possiamo già dare il dietro alle ragazze per segnare con l'imbastitura le linee della stiratura dove andremo a piegare i lati e in fondo. Nel frattempo io finisco il davanti. C'è da segnare l'appen seno e le linee. Ecco, questo è il nostro dietro. Qui dove vedete le linee bianche ci sarà l'imbastitura e sarà piegato in questo modo. Qui in fondo andremo a fare i nostri angolini e qui ci sarà la cucitura con la quale andremo ad unire l'inserti laterale e l'arricciatura in fondo. Per il momento lascio questa da parte e iniziamo a lavorare con il chiffon. Dobbiamo tagliare i due dettagli per fare l'arricciatura. Larghezza 90 cm e altezza 16. Aggiungendo i margini di cucitura vado a tagliare due dettagli di 92 x 18. Quando lavorate con questo tipo di tessuto di solito è molto scivoloso e si sposta facilmente sul tavolo. Per questo motivo vedete come ho messo il reghielo che starà qui per tutto il tempo mentre lavoro con il chiffon. Per posizionare correttamente il tessuto sul tavolo e segnare la lunghezza e la larghezza del dettaglio per l'arricciatura ho utilizzato anche l'angolo a 90 gradi così sono sicura. Adesso posso tagliare senza mettere i spili perché se metto i spili il tessuto si sposta. Questo in realtà è il metodo di tagliare il chiffon, non riesco a farlo in un altro modo. Adesso taglio questi due dettagli per l'arricciatura in fondo. Sto attenta sempre che la linea è bella dritta e poi rimangono i due inserti e le maniche. Mi raccomando, andate piano, non abbiate fretta perché questo tessuto non ama essere tagliato troppo in fretta. Ecco, i due dettagli per l'arricciatura sono pronti. Adesso posiziono i due inserti laterali. Attenzione al dritto filo. La linea che vedete al centro del dettaglio deve essere parallela alla cimosa oppure alla piega del tessuto. Nel mio caso ho già il cartamodello con i margini di cucitura, quindi sono a posto. Ora tutto posiziono con i spingi. Per la manica invece vorrei farla leggermente più larga, poi vi farò vedere. Adesso scegliamo due punti sulla linea del dritto filo del cartamodello e controlliamo la distanza della cimosa, così siamo sicuri che la linea è parallela. Mi raccomando, il dritto filo è importante. Vi faccio vedere come sto facendo io. Voi ripetete nello stesso modo. Nel mio caso la distanza è di 18 centimetri. Metto pochi spili per non danneggiare la stoffa. So che ripeto sempre la stessa cosa, ma non posso non dire quanto è facile e piacevole tagliare dopo che hai pensato a tutto. Avere un cartamodello collaudato e controllato ti fa piacere solo lavorare in questa vita. Se invece non hai pensato prima, poi ti trovi delle sorprese. E non solo per i capi complicati, ma anche con quelli semplici. Ecco perché dobbiamo imparare la tecnica. E' importante sapere la tecnica giusta. Se io avessi messo i spili su tutta la circonferenza del dettaglio, immaginate quanto avrei spostato il tessuto. Invece ne ho messo pochi e il tessuto è rimasto come prima. Così evitiamo i rischi. Ci tenevo a farvi vedere questo momento. Dipende sempre dal dettaglio, ma quando si lavora con tessuti così scivolosi, dovete trovare un equilibrio. Mettere pochi spili per non spostare il tessuto. E che nel frattempo i spili sono abbastanza per poter tagliare giusto il dettaglio. Ecco che abbiamo pronte anche i due inserti. Ci mancano le maniche. Mettiamo di nuovo il nostro righiello per aiutarci a mantenere il tessuto dritto, così siamo sicuri che questa parte è in dritto filo. Misuriamo la lunghezza della manica. Sono 44 centimetri. Va benissimo per me. Taglio a metà e apro. Posizioniamo la manica in lunghezza parallela al dritto filo e apro un paio di centimetri. Non mi serve manica troppo larga e manteniamo comunque presente che essendo chiffon deve avere qualche centimetro in più di larghezza. Sui due centimetri apro, non di più. Inizialmente pensavo solo di far vedere la modellistica di questo vestito, ma poi ho pensato quanto abbiamo lavorato e ho deciso di confezionarlo interamente e farvi vedere il capo pronto. Cioè così capirete bene anche come viene rifinita. E anche il modello merita perché un modello interessante non è il solito vestito con balze. Sarebbe stato molto più facile farlo, poter girare attorno al tavolo, ma a causa della videocamera non è possibile. Ho sempre questo problema. Ho sempre il problema che quando taglio io sono abituata a girare intorno al tavolo. Quando faccio video ripresa non ho questa possibilità. Ciao. Ciao. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Continuiamo il lavoro con il nostro vestito combinato. Ecco davanti il nostro disegno. Abbiamo già costruito il cartamodello e tagliato la stoffa. Per essere in grado oggi di imbastire e fare la prova ho fatto alcuni lavori preparativi. Adesso vi racconto cosa ho fatto. Praticamente ho imbastito tutte le pens e poi ho fatto un'imbastitura con il filo rosso per segnare le linee lungo la quale andremo a piegare il tessuto. Se vi ricordate sul cartamodello è la linea numero 2. L'altra cosa che ho fatto è preparare l'arriciatura fino alla larghezza che ci serve. Ora ve la faccio vedere, ve la mostro. Vedete? Questa è l'arriciatura che io ho già preparato della larghezza che mi serve. Dall'inizio l'imbastitura fino alla fine è più 2 cm per margini di cucitura. Ricordate che prima di arricciarlo questo dettaglio era di 90 cm. Per l'inserto non ho fatto nulla. L'ho lasciato così come era tagliato. Vedete? L'inserto è così. E poi abbiamo preparato anche la manica. Abbiamo cucito in lunghezza e poi abbiamo preparato il molleggio per la cuffia. Ce l'abbiamo creato proprio la cuffietta. tolgo qui il cartamodello e vi faccio vedere poi anche la manica. Ok. Questa è la manica che è già preparata per la prova. Cucita in lunghezza e come vedete abbiamo preparato la cuffietta. Adesso metto a parte tutto e iniziamo a lavorare con il davanti e il dietro. Praticamente da cosa iniziamo? Inizio facendo un piccolo atleto in questo punto per poter ripiegare il bordo verso l'interno lungo la linea segnata. Così. Metto i spili. E' molto importante che anche voi seguiate i passaggi che vedete adesso. Cioè per chi decidesse di fare questo vestito. L'ordine praticamente è uguale anche quando andrete a cucirlo. Come ho già detto è un modello molto particolare e ci fa piacere ogni tanto realizzare modelli di questo tipo. Anche perché a volte servono cose un po' più complicate. Fate attenzione come abbiamo imbastito il lato. All'interno si cuce ad un centimetro. E non pensate che si possa fare senza prima imbastire. In questo caso non è proprio possibile. Va imbastito tutto. Per quanto riguarda l'angolo, adesso non andiamo a fare tutto il lavoro. Semplicemente andremo ad imbastire. Poi nella rubrica momenti di lavoro ci sarà un video dedicato a come fare l'angolo. Vedete tutto il procedimento. Per di vera tutta Natale inizialmente aveva proposto di adesivare i bordi. Ma ho deciso di no. Perché il jersey è abbastanza sostenuto e tiene bene la forma. Non vorrei che il tessuto perda elasticità. Adesso guardate qui attentamente. Abbiamo piegato il lato lungo la linea rossa. Segnato con l'imbastitura. Facciamo la stessa cosa anche con il bordo inferiore. Pieghiamo lungo la linea rossa e imbastiamo. Dobbiamo essere molto precisi in questo momento. Dopo la prova, quando saremo sicure che vada tutto bene, finiremo tutto per bene l'angolo. Vi faremo vedere ogni momento, ogni piccolo dettaglio. Non vi nasconderemo nulla. L'importante è che il vostro auditore, cioè voi, abbiate voglia di fare. Non siate pigri e imparate anche le tecniche del lavoro. Per essere belli bisogna impegnarsi. Imparare la logica del procedimento, la tecnica di ogni lavoro, è la parte più importante. Vedete come sto facendo. Dopo questa linea, sarà la mia guida quando andrò ad unire il chiffon. Questa linea, la linea bianca, è molto importante perché su questa linea andrò a cucire la ricciatura e l'inserto laterale. Tutto ha un suo perché. Come sempre ricordo che dobbiamo lavorare bene e essere molto precisi. Se siamo precisi, non avremo problemi. Sapete quanto io amo la precisione. Ed ecco il nostro dietro. Nello stesso modo facciamo anche il davanti. Fatto questo, prendiamo uno dei dettagli arricciati, posizioniamo sul bordo e dobbiamo andare a cucire lungo la linea bianca. Posizioniamo in modo che il rovescio di entrambi i tessuti è verso di noi. Lasciamo un centimetro prima di iniziare a cucire per poter poi unire l'inserto. Vedete? Lungo la linea laterale cuciremo l'inserto e scenderemo. Dobbiamo unirlo in arricciatura. Per questo adesso lasciamo un centimetro. Tutto ha una logica, poi capirete. Qui andrà unito l'inserto e qui finirà. Quindi lasciamo un centimetro e iniziamo a imbastire. Grazie. 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 Imbastiamo in questo modo e alla fine lasciamo sempre un centimetro. Mi raccomando. Adesso possiamo imbastire anche dal rovescio. Ma io preferisco girare e imbastire dal dritto perché dal dritto si vede meglio il filo bianco sul quale devo cucire. Voi decidete per voi stessi. Voi decidete, volete dal rovescio, fatelo dal rovescio. Io vado a farlo dal dritto. Preferisco. L'arricciatura è stata fatta con tre fili, così sta ferma e non crea problemi. E adesso deve imbastire dal punto di inizio del filo bianco fino al punto dove il filo bianco finisce. E qui vorrei dirvi che dopo la prova tutte queste imbastiture dovremmo toglierle per poter fare gli angoli. E proprio nello stesso modo sarà fatto anche il dietro. E dovete sempre controllare come va l'imbastitura dal rovescio. Non pensate di finire per poi vedere. Fate un po' e poi controllate. Fate un po' e poi controllate. Si fa sempre così. Secondo me avete capito la logica. In questo modo finiamo di cucire tutta l'arricciatura. Ok, questo deve essere il risultato. Adesso iniziamo a unire i lati e iniziamo con la parte superiore. Seguite molto attentamente quello che sto facendo. Teniamo in considerazione che l'abito non è aderente, ma è abbastanza comodo. Prendiamo il nostro inserto in scifone e imbastiamo partendo dall'alto. Iniziamo imbastendo in orizzontale in questo modo. Consiglio è di usare fili di diversi colori per levare imbastiture per evitare errori e non perdere le linee. Non dovete tirare il chiffon. Imbastisco esattamente sull'imbastitura bianca che si intravede sotto. Appoggiamo bene il nostro inserto. Non dovete assolutamente tirare. Fate attenzione perché con il chiffon è un attimo. Vi faccio vedere come imbastisco uno degli inserti. L'altro si fa nello stesso modo. Penso che tanti di quelli che hanno scritto chiedendo di fare questo vestito adesso quando vedono i procedimenti si possono spaventare, pensando che sia troppo difficile. Ma è solo una impressione sbagliata. In realtà non è difficile. Ci sono solo di fare alcuni calcoli e accorgimenti. Io direi che sta andando benissimo. Arrivati in punto dove inizia l'arricciatura. Arrivo adesso lì. Grazie. 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 Mi raccomando, lavorate sempre con attenzione e con precisione, perché noi dobbiamo essere belle. Grazie. 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 Ed eccoci qua, avete visto come tutto il procedimento segue una logica precisa. Finiamo con l'altro lato dell'inserto e devo dire che sono molto soddisfatta. Penso che quello che vedete è a portata di tutti. Adesso finisco, giro dal dritto e vi faccio vedere il risultato. Ecco la cucitura laterale dal rovescio. Ed ecco come si presenta dal dritto. Vedete quanto è bello? Ecco i nostri angoletti staccati dallo chiffon. Ecco la cucitura come arriva in fondo e vado a unire i due dettagli in chiffon. Vedete, è una linea continua. Si procede nello stesso modo con l'altro lato e ci vediamo dopo per la prova. Insomma, avete capito la logica di come si deve fare. Sono gli stessi passaggi e lo stesso ordine anche quando andate a confezionare. Finisco tutto e facciamo la prova. Ed eccomi qua con il mio nuovo vestito. Sapete cosa mi ha dato tanta gioia quando ho indossato il vestito? È il fatto che le conoscenze precise, e non parlo solo delle mie conoscenze, ma dalle conoscenze che ricevete grazie a questi video, vi aiuteranno a fare vestiti di ogni tipo e di qualsiasi modello senza problemi. È l'obiettivo principale del nostro lavoro, trasmettere delle conoscenze precise per dare la possibilità alle persone di fare tutto quello che hanno voglia. Non capita mai che facciamo un modello davanti a voi, poi dietro andiamo a sistemare tutto e poi ve lo presentiamo perfetto. No, tutto quello che vedete è così com'è. Non dobbiamo correggere nulla di nascosto. Non dico che siamo perfetti, anche noi abbiamo fatto i nostri errori, ma in quel caso non presentiamo semplicemente il video. È inutile presentare una cosa che sappiamo già che non è uscita bene. Ci è successo, penso un paio di volte, in tutta la storia del canale. Di solito quello che facciamo davanti ai vostri occhi è il reale stato d'arte del modello. Detto questo, penso che grazie ai video che abbiamo dedicato a questo vestito in particolare e aggiungendo il video dedicato ai angoli, sarete perfettamente in grado di realizzare da soli con le vostre mani un abito come questo. Ecco il nostro inserto. Vedete, sembra che ci sia un vestito in chiffon sotto, perché i bordi del tessuto principale sopra sono stati lavorati in questo modo e il chiffon è stato cucito sotto. Andando verso il basso, l'inserto non ha l'arricciatura. L'arricciatura è solo sul davanti e sul dietro. Devo dirvi che il vestito mi piace proprio tanto il più dell'originale. Ecco come si presenta anche il dietro. Le pen sono opzionali, potete deciderle se farle o meno. Anche la lunghezza della manica non è importante o non sceglie per se stesso. Io penso di fare una leggera arricciatura con un settile elastico, perché mi piace avere le maniche su. Per quanto riguarda il colo, devo ancora decidere come farlo. E lo vedrete questo quando faremo la recessione del capo. Il video è diventato troppo lungo, abbiamo fatto un grande lavoro. Ecco ancora una volta il vestito. Per fare gli angoli avrete il video dedicato. Direi che conoscere la tecnica del lavoro e i procedimenti ci aiuteranno ad avvicinarsi alla nostra futura vita di bellezza. Posso stare qua fino a domani in questo vestito, perché davvero mi sento molto bene. Siete sempre straordinari, mi raccomando. Se imparate a fare questo vestito, potete farlo di diversi colori e avere diversi varianti. Io per esempio ho già il nero e adesso avrò anche questo. E che sono completamente diversi. Penso che qualcosina si possa sempre cambiare, aggiungendo o modificare. Fare il colo diverso, ma l'idea base è molto valida. Quindi giocate di vostra fantasia e condividete con noi se volete fare questo tipo di vestito. Aspettiamo i vostri lavori. È stato un lavoro impegnativo, ma eccomi qua e posso dire che ne valsa la pena impegnarci, perché il vestito mi piace tantissimo. Penso che dopo aver visto tutti i video dedicati a questo vestito, ognuno di voi sarà in grado di farlo. Ho anche pensato che sarebbe molto bello farlo tono su tono, ad esempio crepe nero e scifon nero, per le inserti, la balza e le maniche. Oggi vi presento la variante con inserti in fantasia. In questo momento non indosso una sottoveste. Ho messo il vestito solo per fare il video e qui nel laboratorio non avevo una sottoveste adatta. Ma nella vita reale questo vestito va indossato con la sottoveste, perché le inserti laterali sono trasparenti. Vorrei dirvi che mi sento benissimo. Adesso lo vedete indossato da me e poi vi farò vedere tutto in dettaglio sul tavolo del lavoro. Intanto vi dico che elementi principali per un buon risultato sono le spalle. Il giro manica è la zona del seno che come vedete seguono bene la figura. Questo fa sì che non si accumuli tessuto eccessivo e non creino delle pieghe e garantisce una bella silhouette. Per i capi di questo tipo di una linea comoda che scendono abbastanza liberatamente è molto importante che svasatura non deve partire subito dal colo, perché poi non si capisce nulla. Si accumula troppo tessuto e si perde la linea. Quindi è importante questo. E vedete il nostro caso, siamo partiti dalla base con le mie misure e anche se il vestito è largo andando verso il basso non dà l'idea di una cosa senza forma, perché la parte superiore è modellata bene con la base con le mie misure. Sapete tutti come fare questo inserto, come inire il vestito e c'è un video dedicato a questo. Sapete qual è la sequenza dei passaggi. Ed eccomi qua con il vestito per la gioia di tutti. Abbiamo fatto un bel lavoro anche per la rifinitura del colo. Abbiamo tagliato una striscia in sbiego alta 7 cm, poi l'abbiamo adesivata e stirata a metà. E solo dopo averla imbastita abbiamo deciso all'altezza definitiva. Di solito in questi casi si taglia uno sbiego di poco più alto e si decide dopo. Noi abbiamo fatto così. Per quanto riguarda invece le maniche, qualcuno le farà lunghe, qualcuno forse sceglierà di farle come queste, non importa, l'importante è sapere come farle. Diamo ancora un'occhiata, sono molto felice di avere questo vestito. Qualcuno mi ha scritto che questo vestito è più bello dell'originale. Beh, è normale, è comprensibile, perché l'originale è nero, mentre questo è rosa. Il colore rosa è più bello del nero. Adesso vado a togliere il vestito e esaminiamo come è stato fatto all'interno. Così sarà più facile capire certi momenti se per qualcuno c'è qualcosa che non sia ancora chiaro. Quindi andiamo al tavolo del lavoro. Vi faccio vedere adesso tutto dall'interno. Ecco il nostro vestito sul tavolo. Iniziamo partendo dalla rifinitura dello scolo. L'altezza finale è di 1,5 centimetri. Prima si deve segnare molto bene sul vestito dove sarà cucito il nastro. Si cuce solo uno degli strati, non si cuce già piegato. Una volta cucito si piega all'interno e si cuce a mano. Ecco, vedete che lavoro di precisione, quanti piccoli punti, che bellezza. Questa è la mano della nostra Margherita. Vedete? Un lavoro di precisione, ragazzi. Adesso giro dal rovescio perché come dal dritto sapete già tutti. Ecco i nostri angolini. Vedete? Ecco la parte laterale cucita in modo tale che desse l'illusione di un vestito sopra l'altro. Vedete? E con questa cucitura all'interno è stato unito sia l'inserto laterale che la balza in fondo. Praticamente in questa cucitura si tengono gli inserti interni. ed ecco com'è dal rovescio. Ecco l'inserto. Come si presenta? La cucitura che lo unisce al vestito continua e lo unisce anche nell'arricciatura. Più di questo non c'è altro da farvi vedere. Penso sia tutto chiaro. Per chi piace il tubino oppure l'abita a forma di A, insomma, vestiti che non segnano il punto vita, è una variante molto valida. Sinceramente nemmeno io mi aspettavo un vestito così bello e comodo da indossare. Mi avete chiesto e io l'ho fatto perché ci tengo a rispondere alle vostre richieste e perché ho visto anche che il modello era interessante. Ma non sapevo che mi sarebbe piaciuto così tanto e che l'avrei indossato con tanto piacere. C'erano elementi molto interessanti e in generale era un'idea di vestito che poteva essere utile per insegnare alcuni trucchi come fare certi passaggi. L'inserto, l'illusione di un vestito sopra l'arto, insomma, era questa la mia partenza. Questo risultato ancora una volta conferma quanto è importante lavorare con precisione perché se non avessimo pensato bene a tutto in anticipo, se non avessimo calcolato bene la larghezza degli inserti oppure se non avessimo imbastito le linee di piega e di cucitura dalla parte superiore prima di unire l'inserto, il risultato non sarebbe stato questo. Se non avessimo avuto idee chiare su come unire l'inserto e la balza oppure quanto arricciare e fare la balza sarebbe stata una fatica arrivare alla fine. Non posso permettermi di fare una cosa davanti alla videocamera e dopo rifarla e correggerla dicendovi invece che tutto era perfetto. No, questo non è il mio metodo di lavoro. Prima penso a tutto, faccio magari una prova tela e poi quando ho le idee chiare inizio a lavorare. Ed è molto più facile così. ed è quello che vorrei trasmettervi. Calcolate bene e pensate bene a tutto in anticipo. Penso che un giorno farà proprio una lezione dedicata alla precisione. È un'idea che da tempo gira nella mia testa. Quando sono pronta farò il video. Perché nella sartoria la precisione è di fondamentale importanza. Per un vestito come questo andrebbe bene il jersey e anche lo chiffon sintetico. Lo chiffon sintetico è molto più facile da lavorare per un vestito come questo. Non è tanto capriccioso quanto lo chiffon di seta. Se la parte principale del vestito è di un tessuto naturale l'inserto e la balza possono essere fatti anche in un tessuto sintetico. Non c'è alcun problema. Anzi. Qualcuno come abbiamo già detto prima potrebbe scegliere di fare il vestito tono su tono. Ad esempio rosso bordeaux di jersey è lo stesso colore per l'inserto in chiffon. Il colore non è importante. Qualsiasi combinazione andrà benissimo perché il modello trasmette leggerezza e femminilità. Quindi scegliete voi a base ai vostri gusti. Con questo vi saluto. Ricordatevi sempre di essere diversi ogni giorno della vostra vita. Mettete like fateci le domande commentate condividete i nostri video iscrivetevi al nostro canale e comprate i nostri corsi. Con voi siamo stati noi Pauk Scerna e Mihailovna e tutto il nostro team.